Bentornati su Demon Slayer in questo quarto episodio della serie. Ragazzi miei, finalmente iniziamo il capitolo 2, il demone della palude, quindi la storia di Tanjiro e di sua sorella Nezuko continua. Mi raccomando, recuperate gli episodi precedenti perché sono fondamentali, iscrivetevi ora al mio canale YouTube, attivate la campanella delle notifiche così non vi perderete i prossimi video, ma soprattutto, why you, lasciate adesso un mi piace. Fatemi capire con un mi piace che volete che la serie continui, dipende da voi. Più like vedo, prima arriveranno i prossimi episodi, quindi dipende tutto da voi. Direi di iniziare e andiamo nella città a nord-ovest. 15 giorni dopo! E passa il tempo, è parecchio! E arriva qualcuno! Doppiaggio giapponese, ragazzi, devo dire la verità, veramente ottimo! Tanjiro è sempre piano piano, non vuole disturbare, hai bisogno di qualcosa. Tanjiro, pigliati la katana e stop! Cioè, non fa tutto sto bordello, capisco che sei educato, ma scusi. Non ci sono nubi. La luce del sole viene assorbita dunque senza impurità. Uuuuh! E lui è colui che ci ha forgiato la katana, no? Ma mi ascolta? Alla fine è entrato, dai! Ma tu sei un figlio del fuoco, che incontro propizio! Sono figlio di Tanjiro e Kie. Non è questo che intendevo. Hai capelli e occhi scarlatti, no? Bambini così nascono nelle famiglie di chi lavora col fuoco. È un incontro propizio e ne sono lieto. Non lo sapevo. Forse anche la tua katana si farà rossa. Non pensi Urokodaki? Già! E finalmente questa è la katana di Tanjiro. Una katana personalizzata e speciale. Prova a sfoderarla. Katana iridecente. Cambia in base al portatore il colore. Questo me lo ricordavo. E' una cosa molto particolare. E quella di Tanjiro diventa completamente di un colore cupo, scuro. Interessante. Non va bene? Di malaugurio? E' solo molto raro. Non ero così cupo. Ma no! Ma lascialo stare! Ma che c'entra Tanjiro? Poverino! La prego si fermi che male! Ma quanti anni ha? 37! E non mi ricordavo che avesse così tanti anni! Si calmi! Ti arriva il corvo! Nuova missione? Ti comunico il tuo compito. Dirigiti alla città nord-ovest. Sta parlando? Questo è il tuo primo compito come cacciatore di demoni. Mostrati risoluto. Ha detto compito? Le fanciulle stanno scomparendo in quella città. Quindi ragazzi questa è ufficialmente la nostra prima vera missione. E ogni notte sembra scomparire una ragazza. Capitolo 2 Il demone della palude. Finalmente ragazzi veramente top! Non vedevo l'ora di iniziare proprio la vera sfida, la vera avventura di Tanjiro. Quello visto fino ad ora era solo il suo allenamento e l'esame. Ma questo è l'uniforme. Mi sta a pennello. No, però... No, per sbaglio ho premuto il tasto. In pratica è una roba che permette a Nezuko di entrare all'interno. E quindi di portarla con sé in spalla. Purtroppo in quel momento... Non so perché ho premuto X e ha saltato il dialogo, mannaggia. È rinforzata con l'h di pietra, che è anche resistente. Inoltre è un tipo di legno che, ecco, come diceva, difficilmente si brucia, quindi... Veramente top! Esistono vari tipi di demoni. Ci sono demoni da poteri soprannaturali, capaci di usare abilità vampiriche. Potremmo incontrarli. E battaglie contro di loro saranno più ardue. Sconfiggendo i demoni e risalendo la fonte, un giorno potresti trovare colui che ha trasformato Nezuko in demon. Non so perché... ... ... Il nome del dottor è Kibutsuji Muzan. Kibutsuji Muzan? Il dottor è il quale solo dottor è che Nezuko è stato un dottor? Sì, l'ottor è stato un dottor è un dottor. Persino la propria famiglia. Diventa impossibile resistere all'impulso di saziare la propria fame. Ecco cosa comporta essere un demone. E guardala Nezuko. Questo è quello che pensavo. Finché non ho conosciuto Nezuko. È senza dubbio un demone. Cioè nonostante non ha mai divorato un umano. Ha protetto nostro fratello facendogli da scudo col suo corpo. Non ha mangiato nessuno. Vedete infatti? Ho visto molti demoni durante la mia vita ma non ho mai sentito di un caso simile. La domanda è come mantiene questo stato? È solo una mia ipotesi. Ma credo che Nezuko, al posto della carne umana, possa usare il suo sonno per recuperare le forze. E infatti per questo ho dormito per molto tempo. Dormire per recuperare le forze. È solo una mia ipotesi, potrei sbagliarmi. Dato che sei il solo che è rimasto al suo fianco dovrei continuare a osservarla. Chiaro? Un'altra cosa. Potrebbe essere solo un palliativo, ma mentre Nezuko era addormentata, le ho impiantato una suggestione. Gli esseri umani sono tutti parte della tua famiglia. Proteggi gli esseri umani. I demoni sono tuoi nemici. Non perdonare i demoni che feriscono gli esseri umani. Le ho detto questo. Quindi è come se l'avesse convinta ad agire più o meno in quel modo là. Mettiamola così. Questa è un po' una forzatura, secondo me, della storia. È leggermente poco... Non dico credibile perché in un mondo di demoni c'è poco di credibile già di base. Però il fatto che lei abbia fatto una sorta di lavaggio del cervello mi è sembrato un po' forzato proprio nella storia di Demon Slayer. Questo parecchio. Però ci sta, vediamo. E andiamo a fare la prima vera missione. Sti due stanno parlando da tre quarti d'ora, mi fa piacere. Però voglio anche mostrarvi in questo episodio delle fasi di combattimento. Perciò, Tanjiro, eia. E siamo giunti finalmente in città. Ed è la zona, probabilmente, in cui dobbiamo stare attenti perché forse troveremo dei demoni. Noi sappiamo benissimo che esatto, dobbiamo dare ora un'occhiata in giro. Per il semplice motivo che sembra che in questa città scompaia una ragazza ogni notte. Guardate quante belle cosucce ci sono qua in giro. Credo che in pratica tutte queste persone ci daranno dei piccoli indizi. La città, ragazzi, non mi sembra grandissima, nonostante comunque sia abbastanza carina. Io ho parlato con un po' di persone, ma tutti sembrano non sapere nulla. Qualcuno addirittura nega, dice boh, non so niente. Mi sembra un po' strano, se devo essere sincero. Qualcosa non va? Continua a raccontare questa strana storia. Lui dice che ha visto un'ombra andare in giro di notte, senza che ci fosse nessuno a proiettarla. Ecco, queste sono informazioni utili, finalmente. Io questo volevo sapere. È tonda e nera, è salita su un muro e poi è sparita. Potrebbe essere l'abilità vampirica di qualche demone, infatti. E questo io, ragazzi, volevo sapere fino ad ora. Ho parlato con un botto di gente, ma nessuno è riuscito veramente a darmi delle informazioni vere e concrete. Procediamo con la storia perché finalmente possiamo farlo. Lo vediamo un po'. Conosce una delle vittime. Va bene. Kazumi! Si sono messi in disparte e ci dice che Satoko è scomparsa in questa zona. Immagino non mi crederai. Io lo vedo! Io lo vedo! Io lo vedo! C'è sicuramente un demone che si è già in città, ma devo scoprire altro. Non manca molto al tramonto. Devo raccogliere più informazioni e trovarlo prima del tramonto. La vedo un po' difficile, caro Tanjiro, eh. Potrebbe aspettare qui un momento, c'è qualcosa che vorrei esaminare. Vabbè, ragazzi, Kazumi, lasciamolo un attimo qua perché ci abbiamo da fare. Tanjiro, mettiamola in disparte, scusi. E la città continua. Mamma mia, quanta roba! Diciamo che quindi le porzioni di mappa sono spezzettate, però poi la città è abbastanza grande. Qui c'è proprio qualcosa che credo abbia attirato l'attenzione di Tanjiro. Esatto, è l'odore di un demone. Eh, Tanjiro, questo va seguito, secondo me, palesemente. Dovrei parlare con gli abitanti del posto. E addirittura ha lasciato le tracce. Quindi adesso lo possiamo individuare con più facilità. La cosa importante è parlare con lui, perché credo che questo giovane uomo mi possa dare ulteriori informazioni di quello che sto cercando. Racconti, la prego. Tu mi credi? Cioè, praticamente sono tante le persone che praticamente sono scomparse. Quindi mi chiedo com'è possibile che nessuno crede poi a quello che sta succedendo. I dintorni del fiume. Quindi nella zona del fiume, sì, in pratica, credo che ci sia l'ultimo odore che ci serve. Ed è questo qua. L'odore del demone. Molto bene. Ho trovato parecchio riguardo al demone. Devo fare altre ricerche. Devo controllare l'altra parte del ponte. E una prima fase si è conclusa. Adesso, ragazzi, ci ritroviamo con il nostro carissimo amico alla ricerca del demone. Che sta infestando la città. Sento l'odore del demone, ma solo vagamente. Gli odori si stanno mescolando. È terribile. Deve essere il demone. Tutto buio. Cioè, qua Tanjiro non vede nulla assolutamente. Va bene, Tanjiro. Noi qua siamo per questo. Ma guarda chi arriva qua all'improvviso dal nulla. Ma ciao, bro. Allora. Questa volta, ragazzi, devo provare a mantenere un attimino di concentrazione. Manca il tempo di dirlo, voglio. Manca il tempo di dirlo. Allora. Via, via, spostati. Mamma mia, giusto in tempo. Ottimo. Vai, ottavo katà. Continua a colpire Tanjiro. Perfetto. Bravo. Mi sei piaciuto tantissimo, eh. Continua a spostarti. Raggiungiamola in velocità. Vai. Ottimo. Ancora l'ottavo katà. Via. Non mi è riuscito proprio a prendere. Ruota d'acqua. Ottimo. E andiamo con triangolo. E distruggiamolo. Direi, ragazzi, che siamo andati veramente alla perfezione. Grado S, infatti, non poteva essere altrimenti. Quindi occhio, perché in pratica, ragazzi, qua ci ritroviamo inevitabilmente degli avversari più o meno potenti. A quanto pare, c'è un'altra zona, ma qui non c'è nulla da recuperare. Sono pronto. È qui davanti a noi, ragazzi. Prepariamoci, ci siamo. Inizia il filmato, eh. L'ha colpito. Eccolo qua, ragazzi. Ma cos'è quello? Eh, non se l'aspettava, ragazzi. Che ne è stato delle ragazze rapite? Qua c'è la musica, quindi parla un minimo. È responsabile di tutto questo. Mamma mia! Ma no, che paura! Ma è un bazzuto proprio. Ce n'è un altro. Anche dalle pareti. Ah, grande Nezuko! Bellissimo. Tra l'altro che è stato riprodotto molto bene, mi piace. Perché mai un demone... ...viaggerebbe con un misero umano? Nezuko, pensi di farcela? Eh, si è girato molto ingessato, eh. Bisogna dirlo. Però, vediamo un attimo. Hanno tutti lo stesso odore. Che vuol dire, Tanjiro? È un demone diviso in tre. Esatto. Eccoli qua. No! Ma non sei demone della palude? Ma... Ma che si dice? Stai perdendo freschezza. Ma cosa dice? Ha già compiuto 16 anni. Il suo sapore peggiorerà. Se non la divora, la svelta perderà tutto il gusto. Respira, altro me. Maglio restare calmo. Cioè, ragazzi, lo stesso demone si è diviso in tre e i tre stanno litigando tra di loro. Quindi, Kazumi, pigliati a tua sorella e mo' cerchiamo di intervenire in qualche modo perché... Ma non mi ricordo se è proprio sua sorella, eh. Potrebbe essere anche un'altra ragazza, vediamo. Ridatemela. Satoko? Di chi parli? Ahia. Quello... È di Satoko, il fiocco. L'hai uccisa. Eh, ragazzi. Nezuko arrabbiatissima. Tanjiro altrettanto. Mamma mia, che paura! Cattivissimo! Restituiscila! Vabbè, ragazzi, inizia la battaglia. Prepariamoci perché... Oh, 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 oh. Sono tre! Sono tre? Eh, vabbè, chiaramente lo sapevo fossero tre. Ma attenzione, combattenti di supporto. Praticamente, se premo L1, posso ritiamare Nezuko a combattere con me. Addirittura mi posso pure far dare il cambio, oltre a difendermi mentre sono attaccato, oppure in generale a colpire semplicemente l'avversario. Posso cambiare il target, va bene. Molto bene che c'è questa cosa, perché poteva essere problematico. Comunque, dai prossimi episodi, ragazzi, devo assolutamente togliere i comandi che sono lì a schermo. Cioè, li conosco i comandi, li ho capi... Cioè, devo migliorare, ma... Nel complesso ho capito come funziona, scusami. Uno lo sto distruggendo totalmente. A breve faccio intervenire pure Nezuko, ragazzi, però questo vorrei eliminarlo da solo. Via, 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 mi ha preso, bravo. Eliminato? Nezuko, intervieni. Ma mi stanno scassando, vaiù, assurdo. Uno eliminato. Ah, eh, che è, che è? Per questo li ho mangiate, dovreste ringraziarci. Ma che sta dicendo questo? Vai, vai, Tanjiro. Nezuko, intervieni, aiutami. Mi ha salvato. Vai, 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 vai. Mannaggia, un attacco col Katà ce lo siamo persi, praticamente. Sprecato proprio. Dai, 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 concludiamo la combo per bene. Vai, Tanjiro, bravissimo! Mo' va bene. Scusami, guarda com'è veloce, Tanjiro. Nel frattempo attacchiamo l'altro. Va che questo si rialza, poi... Fa intervenire anche lei. Bravissima! Attacchiamo insieme, ma che spettacolo! Vai col Katà! Molto bene. E la ruota, perfetto. Baccino della cascata. Che poi l'ho chiamata la ruota, vabbè. Ma tanto ci siamo capiti. Intervieni, Nezuko. Aiutami anche tu. Mamma mia, che combinazione col Katà attivo! Bellissimo! Grado S, ci credo, vaiù. Abbiamo fatto una roba spaziale. Aia! Nezuko! Mi sono andata! Mi sono andata! Mi sono andata! Mi sono andata! Ciao, ciao, Tanjiro. Addio! Eh, qua è dura, eh! E mo' mi fa combattere con lei? Possibile! Ah, e quindi... Nella storia, ragazzi, non usiamo solo Tanjiro. Bellissimo, così ci sta. Eh, ma io con lei non conosco le sue mosse adesso. L'urida traditrice, perché collabori con un essere umano? Eh, ma lei non c'è i Katà, lei c'è i colpi... Comunque sono dei colpi speciali. Qui ha lo schianto del calcagno. Perché gli dà una... Una piedata in testa. Lo distrugge. Poi abbiamo qui... Che cos'è questo? Squarci frenetici! Mamma mia, ma è più forte di Tanjiro, no? Mi sembra così, non ne ho idea, eh. Vediamo. Oh, ma ha spedito via, bravo. Ma questa è proprio una boss fight, ragazzi, eh. Sei mio, fra... Calcio volante! Bam! Uh, bellissimo! Vabbè, ragazzi, ma molto bello qua. Sparisci? Si è arrabbiato tantissimo. Oh, via, via, via da qua! Via, 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 spostiamoci! Sei mio? Eh sì, che è mio. Concludiamo la combo. Vai così, Nezuko! Molto bene! Attacchiamo dall'alto, vai! Boom! Eliminato. Ragazzi. Battaglia gestita, secondo me, molto bene. Grado S! E godo! Benissimo! No! Oh! Oh! Tutto chiaro Se lo dirai a qualcuno Mamma mia ragazzi Lui non può parlare Non ti dirò nulla Ma ancora Ma assurdo Ma veramente Ma è incredibile Ah vabbè perché giustamente Non c'è stata tutta la fase Quella lì solita Oh aio Bazzutissimo E acchiappiamolo Tanjiro E che si fa Andiamo con l'impeto E si va Vai Tanjiro benissimo Andiamo con un kata vai Ruota d'acqua Facciamone i 10 di ste ruote d'acqua E ora tocca a noi Prepariamoci Alla parte con i quick time event R1 L'ho fatto un po' troppo presto Va bene Ho sbloccato il ricordo Ragazzi Tolta la testa Grado S Tutto S ragazzi E che si fa Noi facciamo del nostro meglio, ragazzi, ci proviamo. Purtroppo credo l'abbiate capito, ragazzi, per sua sorella non c'è niente da fare. Ah, era la fidanzata, mi ricordavo fosse sua sorella, vabbè. Kasemi, non si non si perdono, non si perdono, non si perdono. Non si perdono, ma non si perdono. Eh, vabbè, ragazzi, praticamente... Mi sono dimenticato che c'era la musica e dovevo parlare. Però, poverino, lui che piange e si dispera così tanto. Eh, questa è una cosa molto commovente, va. Ciao, amico mio. Sono dure e callose per via degli allenamenti. Non sono le mani di un ragazzo. Poverino. Sia Tanjiro che purtroppo ha subito questo e poverino pure lui, ragazzi, che purtroppo ha perso la fidanzata. Non avrebbe mai dovuto incrociare dei demoni. Avrebbe dovuto vivere una vita tranquilla. Ma purtroppo, ragazzi, il fato, quando deve andare così, va così. Non sono il solo. Quante persone hai ucciso, torturato, tormentato? Kibutsuji Muzan. Te la farò pagare. Lo giuro, con la canzone di Copinite di sottofondo. Lo giuro. C'è altro da completare. Infatti, sono delle missioni speciali. Ancora che sblocco tante altre cose, gli scenari. Queste, ragazzi, sono, a quanto pare, delle missioni speciali. La minaccia nel bosco. Questa, ragazzi, magari la faremo in un altro momento, verso la fine della serie, per scoprire quali saranno altri segreti presenti. E qua, invece, abbiamo il capitolo 3, scontro mortale ad Asakusa. Beh, ragazzi, Asakusa, com'è che si pronuncia? Scrivetemelo nei commenti. Ragazzi miei, prossimo episodio sta per arrivare. Iscrivetevi ora al mio canale YouTube. Attivate la campanella delle notifiche. Lasciate un like. E alla prossima. Ciao!